Secondo te ti sto dicendo, a me piace rimanere sempre dentro casa? Una brucia, lavare un sangue, io non conto, mi viene tutta la giornata, io prendo tutte le cose, e, e, mi fai la vaciligia, metto tutto quello che mi serve nella valigia, tu mi accompagni dal nonno, e, me ne vado da dentro, e poi, quando voglio, mi faccio accompagnare dal nonno, non si può uscire, mamma, non si può uscire, qual è il problema? Non si può uscire, non è che io non voglio, io faccio veramente anche le cose che dico io, perché non ce la faccio andare da piccata, e cosa vorresti fare? Sì, Claudio, allora ti ho detto il problema qual è, Claudio, il problema è il virus, che purtroppo non possiamo uscire, che tu piangi, mamma, mi fai sentire... Voglio stare un pochino da dormire. Cosa? Voglio stare un pochino da dormire.